Volevo un gatto nero, nero, nero Volevo un gatto nero Ma mi sono ritrovato a Cartoon Cat Quest'oggi andremo a vedere video del gatto più famoso di internet No, non è il Neancat Oggi andremo a vedere TikTok paurosi di Cartoon Cat A proposito, benvenuti in questo nuovo TikTok pauroso A voi piace Cartoon Cat? Scrivetelo sotto nei commenti Iscrivetevi al canale, c'è un sacco di pollice in su Staccatavelo proprio E attivate la camporellina Sono mancato due settimane, che cosa sarà mai successo? TikTok è da due settimane che non ti apro Cosa ci sarà mai dentro? Una nonna molto viva Ma no, ma dai Ma che no ragazzi Ma perché mi appaiono le live? La nonna sta in coma, attenzione Ma come? Mi dissocio, mi dissocio Povera nonna Prossimo Ecco come te sono ovviamente a casa di Topolino No, Topolino No, Topolino ha rapito un bambino Che cosa sta succedendo? Ecco Topolino Vieni a casa Non andate a casa di Topolino Se l'ho fatta alla fine del formaggio Prossimo Quando si è interrogato e Topolino ti suggerisce Scivola e si rompe la testa Buonasera dal TG Nerone Questa è la seconda Ecco Dal TG Nerone Tutte cose hanno fatto nelle video lezioni Ammetto le ho fatte pure Se sei figlio unico Non piangere Ti faccio compagnia io Prossimo Cartucchette Ma come cartucchette? Ma dai anche il tempo Mi è spuntato cartucchette Nei per te Ma come per me è questo video? Così diamoci un assaggino di cartucchette Quanto inquietante sta cosa No cartucchette non ricorre Porca miseria Mi ha distrutto il tettocio della macchina Ora se piove si paga Prossimo Quando andavi a casa di un tuo amico E la madre lo menava Si Lo E' capitato Può capitare Te l'ho detto che sono più forte Di molto collettivo Cosa ti avevo detto? Cosa ti avevo detto? Di non giocare Di non giocare Tu cosa stai facendo? Però c'era lui Non dovevo Cosa stai facendo? Perché sto solo io No No Dai Mi dissocio Mi dissocio Questa è la faccia del dissociamento in corso Prossimo Quello sarò mai futuro Può sedere per terra Vai Hanno tutti voglia Ma perché hanno tutti voglia Di farsi del male Su tiktok Signora Jaspin Ma si poteva sposare Prende pitto Prossimo E' in giro Con i suoi amici Di ubracarsi Mi starà tradendo Ora Dove sono finito? Aiuto Troppo bello Adoro 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 Dai Che cosa E tu E tu E tu E tu Sei una caccapuzzolente Oh Sì Hai detto una parolaccia grave Adesso lo dico Subito alla maestra Così impari No maestra Maestra No ti prego No maestra 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 Ma ho detto Fammi pezzo di salame No ho detto pure io Un pezzo di salame No non va bene Il salame non è buono Maestra Vado alla fammi e la bocca Dimmi Ma come fai Farsi la bocca Posso andare in bagno? Certo Tu Ti meriti Una nota Sul diario Firmata Dalla mamma Ora Va bene Noi ti tocca indiani Noi ti tocca indiani Ti prego Noni ti tocca indiani Che cosa è? Ragazzi Io direi Di passare Ai video Sul cartoon E questo Cartoon Oh non vedo l'ora Già abbiamo avuto Qualche assa Che cos'è sto cane? Ciao bello Allora aspetta un attimo Cartoon Eeeh Vabbè Già iniziamo Ma quanti Quanti ce ne sono? Allora Iniziamo a vedere I più visti Allora iniziamo a vedere Questo Perché quello L'avevo già visto Ciao Si però Sembra Molto Finto qua No io voglio vedere Proprio Quelli La Stra Eccolo Questo 2010 Wow Felix il gatto 2020 Si è vecchiato male Mi sa Felix Steven Universe Contro Cartoon Cat Ma esiste Sta cosa Vorrei sapere Che mi ha detto Di me Cartoon Cat Alle tre Del mattino Cioè Una persona È uscita fuori Alle tre Del mattino Per cercare Cartoon Cat Cioè Questo qua Ha preso Un drone E ha Registrat E ha Registrato Non vorrei mai Incontrare Cartoon Cat Alle tre Del mattino Perché dormo Solo per Quello Se fosse Tutto reale Bellissime Ste immagini E beh Se fosse Tutto reale Io non sarei qua Cartoon Cat No Cartoon Cat In un film No Scusate La faccia Ciao Cartoon Cat Fatto di Plastilina Come ti va Attenzione Flash Warming Attenzione Ok ok Sì Comunque Era Cartoon Dog Non Cartoon Cat Uomo beve La pozione Di Cartoon Cat Alle tre Del mattino Ok C'è questo tipo Che beve La pozione Cartoon Cat Cosa sta succedendo E sta diventando Wow Hai diventato Cartoon Cat Basullo Però Mamma mia Bruttissimo No Long Horse Gatti dovrebbero fare Le fusa Non dovrebbero Gatti dovrebbero fare Le fusa Queste non sono Fusa Oh mamma mia Oh mamma mia Cosa stiamo guardando Ok Un SCP Ma lo fa ballare Vabbè da Oh Cartoon Cat Ho trovato Uno strano gatto L'ho adotto Non ti conviene adottarlo Non ti conviene adottarlo Corri 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 Piccolo topo Vero Fai la fine del topo Prossimo Che cos'è sta cosa Ah certo Un gatto Cartoon Cat Quindi segui la luce Segui la luce Segui la luce No vedi che ora Sa rabbia Prossimo Sono tornati Vabbè Ma quanti serenete Sono troppi Oh me Che ha avuto un attacco Mentre C'erano le sirene Ma mi pare Che li trova tutti Lui Saranno fotovontaggi No Forse il pesce di oggi Era andato male Mi sto allucinando Che cose sono Sono allucinazione Che brutti Che brutto Dai Che cos'è No 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 Non lo reggo Non lo reggo La mia faccia è rovinata Che brutto Che cos'è sta Ma che sono ste immagini Orribili No Ma chi che fa queste cose Orribilante Trevor Henderson Aspetta ragazzi Ma Trevor Henderson È quello che ha creato Cartonchette Abbiamo trovato Cartonchette Nel mio drone 100% reale Ok ragazzi Vi consiglio di dire Che questo video Su TikTok Spauroso Lo posso anche Concludere qua Spero tantissimo Che vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Se lo avete trovato C'è un sacco di pollice In su Qual vostro lo insiste Tutto E noi ci vediamo Al prossimo video E Ciao Ciao